ciao a tutti amici di trerunning.it oggi vi parlerò della oka a rai 7 da donna da donna si non l'ho provata io fa parte di un progetto da 5 a 50 km in cui delle corritrici donne sui 40 anni, madri di bambini piccoli che vanno alle elementari, madri che lavorano, madri che seguono la casa possono avere tempo di correre forse tutti i giorni 5 km almeno magari tutti i giorni ce la facessero ma non è così e magari hanno l'obiettivo di correre una mezza maratona, una maratona o un'ultra maratona le ragazze che hanno provato queste scarpe hanno affrontato in precedenza gare come la Pistoia Betone poi il Passatore a ritmi tranquilli non sono state delle agoniste super performanti ma delle amatrici della forza che ora con tante difficoltà cercano di portare avanti la loro passione per cui abbiamo fatto questo progetto e queste ragazze puntualizziamo perché sono sempre giovanili quindi vi giuro una donna di 40 anni che corre si tiene in forma a qualcosa di vitalità e di bellezza che una mamma 25-30enne sedentaria non ha quindi correte che va bene come diceva quel demone pazzo di corridore non si smette di correre perché si invecchia ma si invecchia perché si smette di correre è verissimo allora tornando a questa scarpa è tra quelle del progetto l'unica col sistema antifronazione le altre sono tutte neutre abbiamo voluto provare anche questa le corritrici in questo caso sono tutte neutre e per l'occasione ci siamo fatti dare una mano anche da una ragazza che predilice scarpe per passo pronanti anche se sinceramente non ne soffre parecchio il sistema antifronazione di questa RAI è denominato J-Frame ed è costituito da un inserto di gomma all'interno dell'intersuola che inizia da questa parte esterna vedete qui dove ci sono questi cuscinetti di suola e prosegue per tutta la lunghezza formando una lettera J questa gomma più dura impedisce al piede di andare a collassare nella parte interna quando si va a eseguire la rullata del passo è un sistema classico sviluppato però in modo differente dagli altri sistemi spesso le scarpe col sistema antifronazione hanno un inserto di gomma in questa zona qua e per il resto sono tutte con la gomma un po' più morbida qui si è optato per questa soluzione che riesce a correggere un po' e correggere ad allineare il piede già al momento dell'impatto avendo una gomma un po' più dura un po' più stabile da questo punto di vista che non la gomma morbida ad esempio della Clifton quindi abbiamo un appoggio che è non proprio morbido se uno pensa oh capito morbidezza no qui c'è un appoggio abbastanza solido la gomma qui mantiene allineato il piede mentre l'ammortizzazione della caluta avviene in questa zona più centrale quindi la gomma dura c'entra il momento del rimbalzo che quindi non si va in compressione decompressione a fare così ma tac e poi il sistema antifronazione mantiene allineato il piede durante la rullata fino a questa zona qua quindi un sistema un po' più ampio più evoluto rispetto al solito inserto che sta qui perché mantiene su dei binari già dal momento dell'impatto la posizione del piede quindi sotto un certo punto di vista è un sistema antifronazione che si sente meno perché non hai uno sbilanciamento morbido duro qui hai un po' più già duro dal primo momento e poi ti accompagna e qui hai un atteggiamento un po' più morbido per favorire la naturale pronazione quindi da questo punto di vista il sistema antifronazione J-frame si fa sentire meno naturalmente la scarpa è meno morbida rispetto a quella che è o che uno si immagina siano i parametri tipici di OCA quindi è una scarpa che ammortizza ma non è morbidosa tuttavia questo sistema questa maggior rigidità favorisce la transizione del passo sotto certi punti di vista perché non si ha un cuscinetto che si affloscia quindi abbiamo una scarpa che prosegue nella rullata in maniera abbastanza fluida e al momento della spinta ti aiuta non perché c'è qualcosa di rimbalzo ma perché praticamente ti ha mantenuto un po' la tua energia del movimento e quindi ti aiuta nello stacco una scarpa quindi molto lineare nel comportamento abbastanza non dura non voglio dire dura comunque è solida e comoda comunque riesce a essere comoda ha una somaia ben avvolgente con particolari rinforzi come si vede nella zona posteriore per aumentare la capacità della scarpa di mantenere il piede anche ben allineato e per il resto una somaia così molto pulita traspirante che fascia molto bene il piede e ripeto ha imbottiture da fasciarlo in maniera comoda è una somaia più adatta a un piede stretto in questo caso che non ha un piede lato detto questo è una scarpa che le nostre tester hanno apprezzato proprio per essere solida, stabile una scarpa con cui correre tranquillamente 5 km ma anche andare a camminare perché no che riesce a dare una ti imposta la corsa da dire spingo un attimino cioè non vado a correre cioè me la metta ai piedi dicono e ti viene voglia di spingerla bene proprio perché hai un comportamento solido e senti che ti può dar quel qualcosa in più da dire voglio andare con un passo un po' più brioso e da questo punto di vista è una scarpa più adatta tra le brevi medie distanze che non le lunghe distanze o ultra distanze tra l'altro per quel tipo di distanze lì c'è sempre della UCA la gaviota che è una scarpa un po' più grossa un po' più con una piattaforma anche più ampia con un sistema di pronazione differente che da quel punto di vista lì fornisce idealmente quello che potrebbe essere un sistema di protezione e ammortizzazione più adatto per affrontare lunghe distanze quindi 50 km le volete fare ma dovete avere una corsa bella efficiente quindi per utilizzare questa scarpa su lunghe distanze è bene essere preparati avere una bella efficienza di corsa una bella palcata e saper dire procedo dal primo all'ultimo chilometro con bel ritmo OCA Arai 7 a